solo o quasi sul vecchio litorale tra ruderi di antiche civiltà ravenna ostia o bombei è uguale con dei che si scrostano problemi vecchi quale lotta di classe che si dissolvono come un partigiano morto prima del maggio del 45 comincerò pian piano a decompormi nella luce straziante di quel mare poeta e cittadino dimenticato a Grazie a tutti.